Un nuovo appuntamento con Cronache e Commenti, la trasmissione che Teletruria dedica all'attività del Consiglio regionale. In apertura i titoli degli argomenti che andremo ad approfondire. La Toscana è antifascista, approvata la modifica dello statuto della regione. Piano regionale per la transizione ecologica, approvata la proposta di legge. Il richiamo al principio dell'antifascismo entra nello statuto della regione toscana come valore fondante dell'azione regionale. È stato approvato all'unanimità dal Consiglio regionale in seconda lettura l'atto che modifica la carta dei principi fondamentali della regione. La norma prevede che siano aggiunte le parole promuove, difende e pratica la memoria della resistenza e l'antifascismo quale principio costitutivo del proprio ordinamento. La Toscana è antifascista da sempre dalla lotta della resistenza. Oggi lo è ancora di più perché finalmente lo mettiamo scritto nero su bianco nel nostro statuto. Il simbolo, il segno distintivo della nostra regione è il Pegaso alato, era il segno distintivo del Comitato di Liberazione Nazionale. Oggi essere antifascisti vuol dire offrire più diritti, libertà, giustizia, equità e credo che insomma metterlo all'interno dello statuto sia un fatto simbolico e forte, un atto che dice qual è la parte giusta della storia da acquistare. Con la seconda votazione resa secondo il dettato della nostra carta costituzionale il Consiglio regionale ha inserito come valore fondante del nostro ordinamento istituzionale il principio dell'antifascismo, inteso quale forma di opposizione a tutti i regimi dittatoriali e totalitari che rischiano di comprimere le libertà individuali e collettive. Viene quindi sancito il principio dell'antifascismo non soltanto come valore fondante, principio ispiratore del nostro sistema istituzionale ma anche come patrimonio comune a presidio delle generazioni che verranno. Una conquista importante condivisa da tutta l'aula del Consiglio regionale che inserisce nel nostro statuto un ulteriore fondamentale elemento di civiltà. Soddisfazione perché a livello unanime tutto il Consiglio regionale ha votato una norma che non è soltanto un elemento identitario, è un principio di carattere culturale, ovviamente 50 anni ci sono voluti per portare questo principio e però la soddisfazione che in questo momento tutta l'aula si è riconosciuta su un valore, un valore che denota le nostre origini, il Pegaso e denota il fatto che dentro una cornice unitaria tutti i partiti poi possano muoversi dentro i principi di democrazia e soprattutto nel rispetto reciproco gli uno degli altri. Voto favorevole è stato espresso anche dall'opposizione, per Vittorio Fantozzi di Fratelli d'Italia si tratta però di un'occasione persa. Abbiamo convintamente votato a favore di questa proposta, chiaramente l'abbiamo anche dibattuta in aula nelle due occasioni considerandola un'occasione perduta per Regione Toscana e per tutti i toscani, perché al di là della dichiarazione di antifascismo potevamo sostanzialmente interpretare i nostri tempi superando, partendo chiaramente dal valore dell'antifascismo, quello dell'antitotalitarismo che sostanzialmente ha fatto già proprio anche il Parlamento europeo, quindi andare sostanzialmente nella direzione di saper riconoscere i fenomeni storici della nostra contemporaneità dove esistono tuttora stati, dove si praticano sostanzialmente quelle caratteristiche che oggi storicamente si ascrivono il fascismo, il partito unico, la mancanza di libere elezioni, sistemi di polizia che reprimono i dissensi, che comprimono i diritti, che sono sostanzialmente non soltanto attuali e sono in vigore, ma non si richiamano chiaramente stati che si dichiarano fascisti, ma si dichiarano in tutt'altro modo, talvolta sono nazione a regime unico di stampo comunista, altre volte possono essere teocrazie o a volte possono essere anche democrazie dove sostanzialmente non sono esattamente i regimi compiutamente democratici. Ecco, noi volevamo che ci fosse sostanzialmente del coraggio in più per aggiornare la carta statutaria di Regione Toscana e a cento anni dalla marcia sul Roma e quasi 80 anni dal 25 api del 1945 essere capaci di essere figli del nostro tempo. È un'occasione parziale, non raccolta compiutamente da parte nostra, ma abbiamo votato convintamente chiaramente. Se oggi noi descrivessimo un regime all'interno di questo piccolo grande pianeta che applica i sistemi, come dicevo prima, di repressione tipici di un antitutore fascista, ma che si dichiarano in un altro modo, noi rischiamo non soltanto di non capire cosa abbiamo di fronte, ma anche di non saperlo spiegare a coloro verso i quali abbiamo delle responsabilità che sono i nostri giovani. Questa credo che sia una notizia importante. Toscana riconosce il valore fondante dell'antifascismo per quanto riguarda il proprio ordinamento. Sicuramente una notizia da sottolineare, perché è patrimonio culturale di tutti l'antifascismo. Io rivendico l'antifascismo degli autonomisti. Posso al tempo stesso dire che si dovrebbe ormai aprire una pagina di riforma dell'ordinamento regionale, lo statuto, il regolamento e direi anche la legge elettorale. Quindi dobbiamo riflettere sul fatto che mentre la Costituzione repubblicana prevede 12 principi generali, invece per quanto riguarda ad esempio l'articolo 4, le finalità della regione toscana si arriva fino a lettera Z. Bene, ci siamo mossi bene, dovevamo probabilmente farlo prima, ma al tempo stesso invoco una razionalizzazione di tutti questi principi che sono espressi nelle finalità della regione toscana. Apriamo una pagina costituente. Credo che su certi valori, comunque sia indiscutibili e fondanti sia della nostra carta statutaria sia soprattutto della nostra Costituzione, non ci si debba dividere. Anzi, credo che oggi questo tipo di dibattito, una volta archiviata la modifica dello statuto, debba sì, da un lato denotare unità di intenti e una condivisione di quelle che sono le regole democratici, che ormai fanno parte del nostro vivere civile, ma non dobbiamo però dimenticarci che molto spesso questi dibattiti si sono rivelati quasi snobbati dai cittadini rispetto a quelle che sono delle emergenze reali, l'emergenza economica, il caro bollette. Ecco, noi non dobbiamo però dimenticarci che al di là di quelle che sono enunciazioni di principio, oggi occorre dare attuazione a quelle che sono le nostre finalità ed oggi sono richieste delle risposte. Io credo che ci debba essere necessariamente un cambio di passo da parte della Giunta regionale perché, ripeto, un conto è il contesto valoriale su cui ci dobbiamo muovere le finalità sulle quali nessuno discute, l'altro invece è darvi attuazione ed oggi io credo che il pragmatismo e la concretezza debbano caratterizzare maggiormente l'azione della Regione. Non è mai un dibattito sterile quando si parla di diritti fondamentali, però occorre anche capire che oggi, e le urne lo hanno dimostrato una settimana fa, magari anche portare avanti dibattiti che possono rischiare di sembrare strumentali oppure da agitarsi magari con l'avversario politico di turno, oggi interessano meno alle persone. Oggi interessa capire come uscire da una crisi economica e da una crisi occupazionale che stanno veramente gravando e mettendo a dura prova il nostro sistema economico e sociale. Questo è ciò che conta. Quindi, come dire, uniamoci bene sui valori ma poi anche capiamo bene che oggi dobbiamo agire anche su altri fronti. Il nostro voto è stato convintamente favorevole perché al netto di quelle che sono le grandi emergenze che i toscani stanno vivendo in questo momento non dobbiamo mai dimenticarci e rendere lettere a viva i nostri valori. Questo deve essere fatto tramite le iniziative ma anche tramite una messa nero su bianco all'interno dei nostri documenti. Però un appello mi sento di farlo. Molto spesso il valore dell'antifascismo o della memoria di alcuni eventi storici che hanno segnato l'Italia sono diventati per qualche ragione strumento di propaganda di alcuni partiti. Per dargli questa dignità invece di memoria del passato che ci deve aiutare a vivere meglio e con consapevolezza il presente è necessario che principi, valori come l'antifascismo, la condanna dei totalitarismi e tutto ciò che ricorda appunto a noi dei passaggi più oscuri della nostra storia siano condivisi in maniera a politica, a confessionale e soprattutto non diventi un oggetto di propaganda come purtroppo spesso è accaduto anche nella nostra regione. Devono essere valori di tutti, noi dobbiamo essere i primi a dare l'esempio alle persone. Uno strumento programmatico strategico per le politiche regionali in materia di sviluppo sostenibile e contrasto ai cambiamenti climatici. Questo l'obiettivo del piano regionale per la transizione ecologica. In aula è approdata per il voto definitivo la proposta di legge per la sua istituzione. Abbiamo approvato questo importante atto che è il primo passo per un coordinamento e quindi per individuare anche le persone che ci affiancheranno in questo importante lavoro di raccordo sia con il governo sia con i comuni e quindi saremo in qualche modo una cerniera sul territorio per accompagnare in tutti gli atti importanti. Mi viene in mente tutta la parte legata a questo programma che tradizionalmente e storicamente ha già una grande sensibilità sulla parte ecologica proprio per la produzione stessa di energie rinnovabili e quindi non partiamo da zero. Ma con questo atto cerchiamo di mettere in maniera strutturale e programmata tutta la nostra esperienza finalmente a servizio e in rete con tutto quello che è il nuovo panorama che ci chiede l'Europa e quindi crediamo di avere tutti i numeri per poter partire e fare un buon lavoro di concerto sia con il governo che con le nostre comunità locali. In realtà oggi si è istituita l'ennesima scatola vuota della regione, è l'istituzione del piano, quindi non è un vero e proprio piano, che dovrà andare a contenere tutti quei piani che noi aspettiamo da anni. Io sono qui dal 2015 e ancora aspetto il piano dei rifiuti, abbiamo visto passare degli adeguamenti sul piano della qualità dell'acqua, ma dobbiamo parlare di piano della qualità dell'aria, dobbiamo parlare del PRS che è dal 2015 che non viene fatto nonostante ci sia una situazione in Italia ma anche a livello internazionale che è totalmente cambiata anche causa Covid e purtroppo come vediamo ora anche per la guerra in Ucrania. Quindi abbiamo una serie di tematiche che devono essere affrontate ma ad oggi ci si limita a fare una cornice di quello che doveva essere fatto già anni fa e che ancora i cittadini stanno aspettando. Siamo in forte ritardo su tutto in questa regione e non abbiamo ancora chiaro come si intende portare avanti tutti questi temi, soprattutto perché abbiamo non solo delle urgenze e delle esigenze, ma perché è stata fatta questo quadro di cui si parlava senza avere dei risultativi a livello nazionale, perché non era una cosa obbligatoria, era una cosa consigliata, si poteva aspettare, magari cominciare a lavorare su tutti quei piani che i cittadini aspettano ormai da troppi anni e poi arrivare a mettere tutto insieme. La troviamo molto fumosa la proposta di legge che è arrivata stamani, non crediamo che andrà a cambiare al momento assolutamente niente, che non sia assolutamente risolutiva per tutti quei problemi che vediamo sul territorio. Come al solito la regione vuole mettersi alla testa della rivoluzione lessicale del paese aderendo formalmente al piano della transizione ecologica. Dovrebbe essere un piano di programmazione e di competenza del Consiglio regionale che raccoglie e in qualche modo coordina i piani dei rifiuti, della qualità dell'aria, dell'energia, della lotta all'amianto eccetera. In realtà purtroppo ad oggi sappiamo manca il piano regionale di sviluppo che è l'atto madre della programmazione regionale, mancano i piani di settore a cominciare proprio dal piano dei rifiuti. Quindi dal nostro punto di vista abbiamo chiesto maggiore concretezza e soprattutto di conoscere i tempi di realizzazione di questo piano che dovrà essere realizzato anche tramite il contributo di un comitato nuovo tecnico scientifico di dieci membri che avevamo chiesto fosse nominato e fosse messo a supporto anche del Consiglio regionale. Questo ci è stato negato perché si ritiene invece che questo comitato scientifico debba sostenere soltanto la Giunta e quindi anche in conseguenza di questa ennesima chiusura della maggioranza noi abbiamo espresso un voto contrario. Ci riserviamo naturalmente una valutazione nel merito se e quando questo piano arriverà dovendo coordinare per il momento piani come appunto quello dei rifiuti che non esistono. La transizione ecologica è un passaggio fondamentale che è stato ritardato nel corso degli anni e delle legislature nazionali ma mi viene da dire anche per l'Europa e quello che viene presentato oggi in realtà è una scatola piuttosto diciamo da un certo punto di vista poco significativa di una raccolta di indicazioni che vengono dall'agenda 2030 dell'Europa ma in realtà raccoglie un po' di legislatura esistente va a togliere il PAER che invece è una pianificazione già esistente senza sostituirla con qualcosa di concreto con un cronoprogramma o con degli investimenti seri infatti è a invarianza di costi e non si spiega come possa essere una legge così importante non essere supportata da un investimento finanziario forte. L'altro aspetto molto critico è che si tratta di una legge intersettoriale molto importante che inverte molti settori dall'energia all'edilizia alle infrastrutture ma non abbiamo ancora il programma di sviluppo regionale che è il documento cardine con cui inizia ogni legislatura dovrebbe essere stato presentato a inizio della legislatura il presidente Gianni e non ce l'abbiamo quindi stiamo facendo delle leggi senza che ci manchi anzi senza la struttura base che le dovrebbe supportare quindi come sempre navighiamo a vista anche nella transizione ecologica e persino quando siamo in ritardo. Questa era la nostra ultima intervista cronache commenti come di consueto torna la prossima settimana